Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha depositato a Palazzo Chigi il disegno di legge sull'autonomia, insorgono le opposizioni. Un grido d'allarme sulla mancanza di personale nella sanità pugliese e una richiesta di chiarimenti alla giunta regionale, li firma l'assessore Rocco Palese, scossi gli schieramenti. È previsto nelle prossime ore l'arrivo a Taranto della nave di medici senza frontiere con a bordo 85 naufraghi, si tratta del primo sbarco dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto sulle ONG. Ben ritrovati per un nuovo appuntamento del nostro Tg interregionale di Antenna Sud dedicato alla Puglia e alla Basilicata. Partiamo però da uno sguardo sulle ultime della politica nazionale, occhi su Roma perché il ministro per le autonomie e gli affari regionali Roberto Calderoli ha depositato il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Si infervorano le opposizioni, vediamo tutte le reazioni. Si va delineando un nuovo terreno di scontro nella maggioranza stessa e le opposizioni con il disegno di legge sull'autonomia depositato dal ministro Roberto Calderoli. Noi siamo favorevoli all'autonomia differenziata ma deve dare due risposte, una sul ruolo di Roma Capitale, due non devono esserci aumenti nelle differenze fra nord e il sud, dice il ministro Azzurro Antonio Tagliani. Non si può fare la riforma dell'autonomia senza avere una fotografia della situazione, le app servono a dare una fotografia della situazione regione per regione. Ci sono delle proposte, c'è un dibattito, il Consiglio dei ministri non è che approva un testo che arriva, si discute insieme e si approva un testo concordato. Ma questo è normale, non si tratta né di contrasti, si tratta di un normale dibattito. L'autonomia non porterà le regioni a standard diversi ma sicuro il titolare del di Castero Calderoli al contrario le livellerà nel senso dell'equità. Nessuna paura, vedo delle grosse opportunità proprio per le caratteristiche di diversità che l'Italia ha e quindi un aumento di potenzialità che in ciascuna regione può determinare l'aumento del PIL, dell'occupazione, del benessere economico dei cittadini. Ma per le opposizioni è un progetto scellerato. Per il grillino Giuseppe Conte la maggioranza intende allargare le disuguaglianze che già dividono nord e sud e intende spaccare l'Italia. Ma Conte deve stare zitto perché quando faceva era nel governo giallo-verde era felicissimo a parlare di autonomia e adesso che invece sta all'opposizione fa il fenomeno. Per il presidente della regione Puglia Michele Emiliano si tratta di un atteggiamento istituzionale inaccettabile che fa il paio con la decisione del governo di istituire con la legge finanziaria appena approvata una commissione per la determinazione dei LEP che sottrae al Parlamento e alla conferenza Stato-Regioni la possibilità di discutere di autonomia. C'è un testo da cui partire. Questo processo non parte con questo governo. Queste regole, non le ha date questo governo, quelle che lei cita, vengono da chi ha preceduto questa amministrazione. Riteniamo che in conseguenza di questo bisogna attivarsi. Quello che non si può chiedere al governo Meloni è di essere inerti. Un grido d'allarme sulla mancanza di personale nella sanità pugliese è una richiesta di chiarimenti alla giunta regionale. Le firma l'assessore alla sanità in Puglia Rocco Palese, cosa che scuote gli schieramenti. Il PD rinnova la fiducia nei confronti del titolare, della delega. Alla sanità, il centro da estra cita persino le questioni di DNA politico di Rocco Palese, facendo ovviamente riferimento al suo pregresso da esponente di Forza Italia. Vediamo che cosa sta accadendo in Regione Puglia. Un grido d'allarme che però è anche una richiesta di chiarimenti. Rocco Palese non aveva nascosto nell'ultima sessione di bilancio le difficoltà nel reggere un assessorato di peso, come la sanità, facendo i conti con la mancanza di personale. Almeno 80 impiegati e 30 funzionari, uffici non più in grado di funzionare, ma pure le leggi del Consiglio che ci metterebbero del loro rendendo tutto più complicato. In Giunta ci sarebbe già un intero dossier sul quale però apre il fuoco l'opposizione. Bisogna avere il coraggio di insorgere contro il Presidente Emiliano e la Giunta, piuttosto che contro il Consiglio e i suoi doveri di rappresentanza dei cittadini. Bollano da azione tra i granelli nell'ingranaggio e in grado di innescare la discussione anche il dispositivo delle leggi regionali di potenziamento degli screening per i tumori al seno e al colon retto, legati all'indennità di risultato. Per Fratelli d'Italia invece la questione è tutta politica. Da una parte l'assessore Reo, secondo il partito, di aver capito di non poter fare nulla e di non essere gradito alla maggioranza e quindi anche di cercare l'incidente per uscire dall'esecutivo. Dall'altra maggioranza di centrosinistra e qualche dirigente che non avrebbero mai digerito la nomina e che starebbero cercando di cacciarlo. La cronaca. Un pescatore di 78 anni è stato ritrovato senza vita nel lago di Varano. Siamo nel Foggiano, in Puglia. L'uomo si era allontanato nel pomeriggio di lunedì con la sua piccola imbarcazione e non aveva fatto più ritorno a casa. Tragedia nel lago di Varano, nel Foggiano, dove intorno alle 11.30 del 3 gennaio è stato ritrovato privo di vita il corpo di Giovanni D'Andrea, postino in pensione di 78 anni, originario di Carpino, disperso dalla sera del 2 gennaio. I carabinieri del comando di Vico del Gergano, a bordo di un gommone, hanno ritrovato il corpo dell'uomo al centro del lago, incagliato in una cima di quelle utilizzate per fissare la body a prodo. Il recupero dell'assalma è stato effettuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto si è recato anche il medico legale per le prime ispezioni sul cadavere che attualmente è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso dunque le indagini per comprendere le esatte dinamiche dell'accaduto. A quanto si apprende, l'anziano si era allontanato nel pomeriggio del 2 gennaio con la sua piccola imbarcazione ritrovata con il motore ancora acceso. Nella mattina successiva alla scomparsa, la famiglia, non vedendo rincasare l'uomo, aveva allertato i carabinieri del posto che hanno da subito attivato il piano di ricerca. Sul luogo hanno operato anche i vigili del fuoco della stazione di Vico del Gargano supportati da due operatori speciali TAS, dal nucleo regionale sistema aeromobili a pilotaggio remoto che è impegnato un drone dotato anche di sistema di infrarossi per la ricerca notturna e da una squadra provinciale di soccorritori acquatici. A rendere particolarmente complesse le attività, i fitti banchi di nebbia che da giorni stanno interessando molte zone della provincia, compresa l'area di Varano. Continuiamo con la cronaca, con gli ultimi aggiornamenti sul caso Stasi. L'omicidio è avvenuto il 9 novembre scorso del giovane 19enne originario di Francavilla Fontana. Oltre alla pistola a gas e al denaro, al 18enne indagato per l'omicidio di Stasi è stato sequestrato anche un telefono cellulare. Non solo i soldi, quasi 10.000 euro in contanti, non solo la pistola di base, un'arma giocattolo e gas di libera vendita, ma anche un telefono cellulare, seppur conferma la difesa, non utilizzato da tempo un vecchio modello ritrovato spento e scarico, probabilmente non funzionante. Continua ad arricchirsi di dettagli l'indagine. Sull'omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana, ucciso lo scorso novembre da due colpi di pistola esplosi da un misterioso killer sotto l'uscio della sua abitazione in via Occhi Bianchi. Per l'omicidio sono indagati due giovanissimi. Uno, difeso dal legale di fiducia a Leonardo Andreulo, era ancora minore il giorno del delitto. È a casa sua che i carabinieri, nelle scorse settimane, sono andati per eseguire una perquisizione disposta dal pubblico ministero. Ed è lì che, oltre alla pistola e al denaro, una parte regalo di compleanno e una parte risparmi del lavoro, è stato trovato pure un telefono cellulare, anche quello sequestrato dagli investigatori eppure quello oggetto di riesame presso il tribunale di Brindisi. La difesa, infatti, ne ha chiesto il dissequestro, come per l'arma e per il denaro, anche perché ha sempre confidato il 18enne ai suoi familiari, lui, l'amico di Paolo, è totalmente estraneo a quella vicenda. È vero, i due si conoscevano e si ritrovavano spesso nella casa di via Occhi Bianchi, ma per giocare ai videogiochi con la Playstation, proprio come tanti loro coetanei. Eppure Paolo Stasi è stato ucciso barbaramente, eppure dei giovanissimi sono indagati, eppure a quasi due mesi del delitto, al netto di un'indagine su cui il riservo degli inquirenti è massimo, l'omicidio del 9 novembre resta ancora un tragico mistero, resta ancora una morte inspiegabile. Resta confermato lo scioglimento del comune di Ostuni disposto nel dicembre del 2021 per accertata infiltrazione della criminalità organizzata. Lo ha deciso il TAR del Lazio con una sentenza nella quale ha riunito le motivazioni relative a due distinti ricorsi proposti dagli ex amministratori. Non ci sono stati colpi di scena. Seguendo una linea che ha uniformato la sorte di gran parte dei ricorsi presentati negli ultimi anni da ex amministratori di altri comuni italiani, il TAR del Lazio ha confermato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ostuni per infiltrazioni mafiose. I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno riunito in un'unica sentenza le motivazioni relative a due distinti ricorsi proposti dagli ex amministratori, tra cui l'ex sindaco Guglielmo Cavallo. Il Tribunale, nel testo di una complessa sentenza che ha toccato ogni punto delle contestazioni proposte, ha ritenuto che tutte le censure avanzate sono manifestatamente infondate. In particolare, il TAR ha valutato che i dati raccolti nel ricorso non dimostrano la capacità di resistenza degli amministratori locali alle pressioni della criminalità organizzata, nell'assenza di compromissioni al buon andamento degli uffici, bensì la pericolosità dei soggetti, il contesto difficile nel quale l'amministrazione comunale si trova ad operare, con evidente pericolo per la sicurezza pubblica e di una possibile alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi. Tutti elementi questi che non sono sufficienti per decretare lo scioglimento del Comune, ma che dimostrano, secondo i giudici, in maniera inequivoca, l'infiltrazione criminale nella struttura burocratica. Ancora un'auto in fiamme in Salento, non solo nella notte, è stato fatto esplodere un ordigno. Prima un'auto in fiamme, poi l'esplosione di un ordigno. Notte movimentata in Salento, intorno a Luna, Monteroni di Lecce a fuoco, un'arena al Clio. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Il veicolo è risultato intestato a un uomo di 51 anni. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Un'ora più tardi, a Galatone, in via Fratelli Kennedy, un ordigno è stato fatto esplodere davanti all'abitazione di un 33enne disoccupato. L'esplosione ha infranto la vetrata del portone in alluminio e spaccato la cornice inferiore di marmo, provocando anche l'annerimento nel punto in cui l'oggetto è stato piazzato. La deflagrazione ha svegliato il vicinato. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Galatone, che sono ora a lavoro per cercare di capire in quale contesto inquadrare la vicenda potrebbe trattarsi di un avvertimento o una semplice bravata. Una molotov dinanzi alla sede della polizia locale di Sava. Non si comprendono bene le ragioni, se sia una ragazzata o intimidazione. Intanto indagano i carabinieri. Proseguono a Sava le indagini su un gesto che ha il sapore di un affronto alle istituzioni. Nel corso della notte una bottiglietta incendiaria è stata posizionata dinanzi al portone d'ingresso della sede della polizia locale. Dopo i rilievi le tracce dei danni causati sono state ripulite, resta anerita la parte inferiore del portone. In ogni caso il gesto va fermamente condannato secondo il primo cittadino del comune Tarantino. Non penso che sia stata una ragazzata più un atto intimidatorio perché è stato utilizzato del liquido infiammabile, i danni sono lievi ma la gravità dell'atto rimane. Io esprimo la mia vicinanza nei confronti della comandante Rugina Soloperto e di tutti gli operatori della polizia locale che giornalmente lavorano per la nostra sicurezza. La sicurezza è uno dei nostri obiettivi, un obiettivo principale della mia amministrazione e questo atto non scalfirà il nostro impegno nei confronti della sicurezza di tutti i cittadini. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti subito e hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza. Però vi spiegate questo gesto in qualche modo? Noi ad oggi non abbiamo modo di pensare sui motivi che hanno condotto questo vile gesto. Sulla stessa linea il deputato savese Dario Iaia che, oltre alla vicinanza a comandante e agenti, parla di un gesto deprecabile, segno di totale assenza di rispetto verso le istituzioni e quindi, dice, verso tutti noi. Bilancio di fine anno della polizia ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise sono oltre 215 mila le persone controllate nel 2022. Più di 215 mila persone controllate, un aumento del 2,3% rispetto al dato precedente, ma anche 30 arresti e 238 indagati. Sono i numeri del bilancio di fine anno dei controlli della polizia ferroviaria di Puglia, Basilicata e Molise. 8.438 le pattuglie impiegate in stazione e 994 quelle a bordo treno, impegnate in quasi 500 servizi anti-borseggio, ma pure incentivando le giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 43 operazioni su scala nazionale. Sotto sigillo sono finiti 600 grammi di stupefacenti cannabinoidi, 300 grammi di cocaina, 27 di eroina, oltre a 4 armi da taglio e una da fuoco. 223 invece i controlli nei centri di raccolta contro i furti di rame, che hanno portato al recupero di 12 chili compressivi tra rame e altri metalli ritenuti di provenienza illecita e dunque anche ad una denuncia per una persona per reati di riciclaggio, ricettazione e furto. Nel 2022 gli agenti hanno rintracciato circa 52 persone scomparse, 39 di loro erano minori. È previsto nelle prossime ore l'arrivo a Taranto della nave di Medici Senza Frontiere con a bordo 85 migranti. Si tratta del primo sbarco dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto sulle ONG. Dovrebbe arrivare nel porto di Taranto attorno alle 7 di mercoledì 4 gennaio la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con a bordo 85 naufraghi soccorsi in due distinte operazioni. L'imbarcazione dell'Organizzazione Umanitaria è stata destinata a sbarcare nello scalo ionico più volte nel corso degli ultimi mesi. Ma stavolta si tratta di un approdo storico. La Geo Barents infatti sarà la prima nave a toccare terra dopo l'entrata in vigore del decreto sulle ONG che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella e subito pubblicato in una gazzetta ufficiale con decorrenza 3 gennaio. Tra le regole c'è quella di dover chiedere subito un porto sicuro senza sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e di far formalizzare la richiesta di asilo da parte dei profughi già sulla nave. Geo Barents ha operato i primi due soccorsi 41 persone in difficoltà in acqua internazionale a largo della Libia poi un trasbordo da una nave mercantile di 44 persone eseguendo le richieste del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo. In seguito però ha modificato la rotta per accogliere una terza segnalazione di dispersi di Alarmafon poi non portata a termine senza richiesta delle autorità italiane una scelta che secondo il nuovo decreto potrebbe comportare anche sanzioni dalla multa fino al sequestro della nave nei casi più gravi. Quest'operazione è finita per fortuna bene a differenza di molte altre che a volte avvengono nel Mediterraneo centrale sono già più di 2000 le persone che hanno perso la vita in quest'anno è stata coordinata dalle autorità italiane e ora le 85 persone sono a bordo con noi e saranno sbarcate nel porto di Taranto che ci è stato assegnato. Danni al presepe furto di luci al Parco della Legalità nella zona Santa Cecilia di Modugno nel Baresi abbiamo raccolto la reazione indignata delle volontarie che già si erano attivate per organizzare iniziative in queste festività. Non un inizio di 2023 da ricordare per il Parco della Legalità di Modugno in zona Santa Cecilia nei giorni scorsi non sono mancati atti vandalici in alcune delle parti addobbate a tema natalizio le sagome del presepe prima di tutto danneggiate e abbandonate un Babbo Natale monco di braccio e soprattutto il furto di faretti a sistema solare posti sui tronchi degli alberi per illuminare anche di sera il parco assalto il cui danno è di 200 euro tanti considerati anche i sacrifici delle volontarie che in tutti i modi stanno provando a dare una magia ad un giardino spoglio le iniziative in vista della Befana naturalmente proseguono ma l'amarezza rimane è uno schifo, una vergogna l'amaro commento sui social delle interessate la speranza è che almeno la fine delle festività possa essere caratterizzata da una maggiore serenità e che anche nelle zone più periferiche venga rivolta una maggiore attenzione da parte delle autorità competenti Durante il processo nato dall'inchiesta sull'assegnazione delle case popolari a Lecce l'ex assessore risponde al pubblico ministero Carducci in merito ai regali che spesso faceva i suoi potenziali elettori pagavo bollette e giostre in politica si fa così Durante il processo nato dall'inchiesta sull'assegnazione delle case popolari a Lecce l'ex assessore Attilio Monosi risponde al pubblico ministero Massimiliano Carducci in merito ai regali che spesso avrebbe fatto ai suoi potenziali elettori Io facevo politica, a me interessava trattare bene il cittadino perché forse mi avrebbe potuto votare un domani si sarebbe potuto ricordare di me sempre chiunque esso fosse e a qualsiasi appartenenza politica si riferisse per cui io ho preso voti di rifondazione comunista, si sa che io ero di centrodestra ho preso tanti voti perché io i cittadini li ho trattati bene e come li ho trattati bene? Quando c'era da poter fare qualcosa lo facevo anche per la Durante, lo facevo per Zinedine sempre un assegnatario di Via Potenza lo facevo per chiunque perché in politica si fa così alla Durante le ho pagato anche le bollette sì, le giostre io facevo la lista delle telefonate mia i 200-300 miei elettori o potenziali elettori andavano al bar di riferimento o al bar Carletto che fosse o al chiosco di Via Temura da Francesco e i miei amici del bar Carletto o del chiosco dicevano è cominciata a te le donna lei perché era una via vai di persone agli quali io donavo, perché la politica si fa così era un modus operandi io facevo politica no, io volevo dirle che io facevo politica e la politica si fa così dando retta alle persone, ascoltandole e nei limiti del possibile soddisfando le loro esigenze in quel momento il gruppo degli assegnatari di Via Potenza aveva una esigenza di vita, la casa e l'esigenza di vita della casa era soddisfatta se io mi fossi attivato tanto è chiaro che poi io anche bleffavo dicevo ho fatto una cosa che non dovevo fare ho fatto una forzatura terminologia che purtroppo si usa sbagliando si usa sicurezza stradale in provincia di Lecce il presidente Minerva fa il punto della situazione sono quelle provinciali le strade leccesi dove si registrano maggiori incidenti dopo la statale 275 ci sono la San Cesario Galatina e la Galato nel Santa Cesaria Terme non da meno la Casarano Ruffano, Galatina Collepasso insomma le strade provinciali che necessitano di maggiore sicurezza sono tante in provincia di Lecce una provincia che conta 96 comuni i vincoli burocratici, i pareri, le lungaggini fanno passare anni senza riuscire a concludere una infrastruttura questo è un problema per il nostro paese perché senza infrastrutture moderne e sicure succede poi quello che sta succedendo cioè che ogni giorno accendiamo i telegiornali e ci troviamo a confrontarci con notizie di morte sulla strada questo è uno dei problemi più seri del paese noi abbiamo bisogno di una mano perché la manutenzione stradale è fondamentale perché a volte siamo veramente in possibilità di intervenire su grandi opere che costano milioni di euro ma che ci vengono intrappolati in una miriade di cavilli che non ci fanno arrivare a conclusione ripeto, basta vedere quello che sta succedendo sulla 275 le difficoltà che abbiamo con i nostri finanziamenti di intervenire su tratti di strada lunghi chilometri come ad esempio l'Ardo Avetrano come ad esempio la Galatina Copertino andiamo a Francavilla Fontana nel brendisino non sarà Antonio Andrisano il candidato al sindaco per l'area di centrodestra alle prossime amministrative lo svela il diretto interessato proprio sulla nostra rete mentre il sindaco uscente Antonello Denuzzo non scioglie ancora il nodo sulla ricandidatura Antonio Andrisano capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale ufficializza al contrario il suo disinteresse non sarà lui nonostante l'investitura ufficiosa ricevuta da alcuni esponenti politici già in estate il candidato sindaco per l'area di centrodestra è stato lo stesso forzista a dare la notizia già anticipata alle segreterie azzurre devo dire che faccio una battuta Antonello Denuzzo avrà vita più facile o meno difficile perché proprio qualche giorno addietro ho comunicato a quel gruppo di amici e di colleghi del centrodestra che mi aveva chiesto di valutare una disponibilità alla candidatura sindaco che allo Stato per motivazioni politiche ma soprattutto personali e professionali non sono interessato Denuzzo al momento resta insomma senza competitor a pochi mesi dalle amministrative infatti né il PD del consigliere regionale Maurizio Bruno né il centrodestra hanno il cosiddetto nome per tentare la presa di Castello Imperiali Denuzzo che però pone delle condizioni per la sua ricandidatura io sarò ricandidato ed eventualmente sarò di nuovo sindaco se ci sono le condizioni per lavorare cioè se dobbiamo lavorare intanto a una coalizione dove ognuno tira per la sua parte fermiamoci un attimo e facciamo per tempo una riflessione utile appunto se invece si può lavorare come abbiamo fatto nel 2018 a una coalizione a un gruppo di persone che si stringono la mano guardandosi negli occhi intorno a un programma queste sono le condizioni ideali che io auguro a me stesso dovessi replicare questa esperienza o a chiunque sarà in futuro il sindaco di Francavilla Fontana la regione Puglia investe sull'idrogeno c'è un bando da 40 milioni di euro le imprese in Puglia possono presentare progetti per realizzare impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse cominciamo il nuovo anno con una bella notizia concreta lo scrive su Facebook il governatore Pugliese Michele Emiliano possono presentare domande di finanziamento fino a 10 milioni di euro spiega Emiliano le imprese di tutte le dimensioni anche congiunte che abbiano un sito industriale dismesso secondo i requisiti del bando le domande possono essere inviate fino alle ore 12 del 24 febbraio le risorse disponibili ai fini del presente avviso sono pari a 40 milioni di euro l'Italia e la Puglia compiono così un passo fondamentale verso la concretezza delle cosiddette idrogen valley ma anche e soprattutto verso la progressiva bonifica di settori che comprendono gli stabilimenti energivori dove decarbonizzare diventa più difficile la Puglia dunque fa un passo verso la trasformazione delle aree industriali dismesse in luoghi di produzione di idrogeno verde ma anche alla riduzione delle emissioni di CO2 e nel lungo e difficile ambizioso ma non più rimandabile progetto di decarbonizzazione di giganti come ad esempio l'Ilva l'idrogeno verde è una grande opportunità per i territori che vanno decarbonizzati a parlare il presidente di Confindustria Gabriele Lipolis per il territorio di Brindisi Lipolis è fiducioso sulle opportunità che anche la sua città saprà cogliere dal bando pubblicato dalla regione per il presidente della regione Puglia Michele Emiliano il nuovo anno inizia con una bella notizia la pubblicazione del bando a Idrogen Valley ma a Brindisi prima di cantare vittoria forse è meglio essere cauti atteso che storicamente le occasioni perse dal territorio superano quelle colte certo il fatto che anche il numero uno di Confindustria Gabriele Lipolis sia entusiasta delle possibili ricadute derivanti dal bando è cosa positiva ci siamo candidati sin da subito come hub della transizione energetica le aziende sono interessate ad investire e qui ha esordito il presidente guardiamo l'investimento della green Idrogen Valley guidato da Edison insieme ad Alboran e Saipem dove c'è un investimento ed è previsto un investimento tra Brindisi Taranto e Cerignola all'incirca di 700 milioni di euro noi vogliamo che si decarbonizzi veramente la Puglia e questo è un passaggio fondamentale l'idrogeno verde potrebbe realmente cambiare la storia della città ha aggiunto Lipolis non chiediamo solo investimenti chiediamo anche delle filiere produttive per i prossimi 40-50 anni che possano creare posti di lavoro un esempio pratico potrebbe essere una fabbrica di elettrolizzatori oppure delle fabbriche che possano riguardare comunque le energie rinnovabili ci fermiamo per una breve pausa restate con noi torniamo tra poco con le notizie di Antenna Sud bentornati con l'informazione di Antenna Sud proseguiamo con le notizie dai territori sono ripartiti da lunedì i ricoveri nell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Miccoli di Barletta un incendio lo ricordiamo il 12 settembre scorso aveva compromesso il funzionamento della struttura è stata riattivata nelle scorse ore l'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Miccoli di Barletta al momento con 8 posti letto succede dopo l'incendio del 12 settembre scorso che ne aveva compromesso il funzionamento interessando la struttura esterna dell'ospedale provocando ingenti danni all'unità operativa in questione letti e attrezzature cambiati ex novo ma anche impianti finiti in avaria tanto quello elettrico quanto quello idraulico e ripristino cominciato a stretto giro a partire da soffitto pavimento e infissi i ricoveri sono già ripresi ufficialmente a partire dal pomeriggio del 2 gennaio scorso con i tempi rispettati del cronoprogramma e il plauso del DG della ASLA locale Tiziana Di Matteo in favore degli operatori che hanno permesso di non interrompere l'attività chirurgica nella fase transitoria delle operazioni di riattivazione numeri record per il fine settimana di capodanno nei musei della regione Puglia in particolare in quelli del capoluogo pugliese e di Foggia al castello Svevo di Bari oltre mille visitatori pensate in soli tre giorni oltre 5 mila visitatori in tre giorni il fine settimana di capodanno ha dato grandi soddisfazioni al comparto culturale della regione con le strutture ricettive piene tra il 70 e il 100% complici le temperature primaverili e l'ingresso gratuito del primo gennaio come previsto dal format Domenica al Museo le aperture sono state premiate medaglia d'oro per il castello di Bari che il primo dell'anno ha fatto registrare oltre mille visitatori grazie anche alla nuova grande mostra Antichi Popoli di Puglia all'archeologia racconta inoltre sempre il maniero barese ha superato i 500 ingressi tra le giornate di venerdì e sabato ottima prestazione per Castel del Monte 549 i fruitori che hanno scelto di visitare il sito UNESCO nella giornata di domenica oltre mille coloro che hanno ammirato il monumento federiciano tra le giornate di venerdì e sabato sul podio anche il Museo Archeologico Nazionale Castello di Manfredonia con 344 ingressi nel giorno di Capodanno e a seguire con una manciata di differenza il Parco Archeologico di Siponto che ha registrato 339 visitatori ottima performance per il Castello di Trani nelle sole giornate di venerdì e sabato ha intercettato complessivamente 500 visitatori saldi al via in Puglia il 5 gennaio vediamo come si stanno preparando i commercianti il 5 gennaio si avvicina è tempo di saldi anche in Puglia anche a Bari e i commercianti sono pronti per affrontare questa sfida? scopriamolo insieme i saldi sono troppo presto perché poi a cavallo di Natale è normale che è troppo presto perché la gente poi aspetta giustamente i giorni i primi giorni del purtroppo una volta si facevano a fine mese i saldi perché come fine stagione invece qui stiamo ancora l'inverno ancora deve arrivare e noi siamo già all'inizio dei saldi ecco perché è troppo presto dobbiamo essere fiduciosi e guardare sempre al positivo mai diciamo guardarci indietro in realtà no non è troppo presto anche perché la gente comunque aspetta i saldi perciò è inutile metterli troppo tardi tanto comunque aspetterebbero i saldi perciò va bene che inizi nel 5 come quasi tutti gli anni possiamo solo sperare che le cose migliorino in realtà perché c'è da migliorare c'è da migliorare parecchio quindi auguriamoci che insomma si ingrani meglio adesso si sta verificando anche questa cosa qui se ci sono delle condizioni favorevoli acquistano altrimenti possono anche evitare di acquistare tranquillamente l'inverno meteorologico inizia il 21 dicembre come si può iniziare i saldi di fine stagione dieci giorni dopo assolutamente troppo presto siamo ottimisti comunque il Natale è andato ottimamente gli eventi natalizi quest'anno si è iniziato un po' più tardi rispetto agli altri anni però comunque sarà andata bene la voglia comunque di nuovo c'è sicuramente troppo presto perché l'inverno deve ancora arrivare quindi ci troviamo a vendere i giacconi pesanti o la maglieria pesante con i saldi certo ci si attrezza cerchiamo di comprarne meno però sicuramente troppo presto la decisione del comune di Bari di affidare i box abbandonati del mercato di via vaccarella carbonara alle associazioni locali ha fatto flop l'asta da 700 mila euro infatti è andata deserta una riqualificazione che passa dall'affidamento dei box abbandonati alle associazioni della zona trasformandoli in attrattori culturali ed innovazione sociale il tutto per 700 mila euro di investimento ma la gara è andata deserta con l'unica offerta pervenuta non idonea il mercato di via vaccarella al quartiere carbonara di Bari vive un periodo poco roseo e a poco valgono gli sforzi dell'amministrazione comunale se i bandi di gestione vanno a vuoto l'area da tempo versa in una situazione di stallo con numerose serrande abbassate e i pochi venditori che si sentono trascurati che cosa ne pensi quando la faranno vedremo perché io per il momento non ci credo ancora perché sono passati già 5-6 anni da quando dissero che dovevano fare questa cosa la parecchiano speriamo speriamo che porta qualcosa di buono questa ma riqualificare significa fare delle opere che servono in che senso togliere le plastiche perché l'estate si muore di caldo questi sono i problemi grossi la pulizia la puzza che si sente perché i tubi sono troppo piccoli ci sono delle cose grosse da fare che però stiamo sempre aspettando ci siamo sempre lamentati guarda provo a guardare l'umidità che quando piove entra l'acqua dentro io ci credo io ci credo sempre sono sempre positivo speriamo noi ce la mettiamo tutta ora aspettiamo le istituzioni comunque sempre vivo il mercato di Carbonara beh la pulizia di più bisogna pulire per bene perché si sentono cattivi odori vuoto devono riempire i negozi non è che perché c'è troppo abusivismo qua la pulizia che è molto sporco così è non si capisce nulla questo mercato è perché è tutto mal ridotto bisogna ripristinarlo nel mercato Massafra è il bando per l'assunzione di nuovi vigili urbani Massafra cerca nuovi vigili urbani e operai specializzati l'amministrazione comunale ha bandito infatti due concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di quattro posti a tempo parziale 18 ore settimanali e indeterminato per agente di polizia locale categoria C1 e due posti a tempo pieno indeterminato per operai specializzati categoria B3 per partecipare i candidati dovranno presentare domanda di ammissione pena l'esclusione entro le 23.59 del 26 gennaio 2023 le domande di ammissione devono essere presentate utilizzando il link al portale sportello unico digitale concorsi selezioni pubbliche presente nella sezione dedicata alla procedura concorsuale del portale amministrazione trasparente bandi di concorso sul sito istituzionale del comune www.comunedimassafra.it L'arrivo della Befana il 6 gennaio deve essere la normalità per tutti i bambini anche per chi vive in famiglie con condizioni economiche precarie e in case cosiddette occupate siamo a Manduria in via San Pio vi raccontiamo una bellissima storia di solidarietà La Befana non fa distinzioni tra bambini arrivando anche per chi indossa con estrema dignità abiti di seconda mano e pranza con ciò che la Caritas fornisce Qualcuno negli anni le ha definite le favelas di Manduria a noi piace chiamarla comunità e questo è ciò che abbiamo respirato sul posto 58 famiglie che occupano case di proprietà di nessuno destinate alla demolizione e che in quelle abitazioni pongono le basi per essere famiglia ed è dalle case occupate di via San Pio a Manduria che parte la macchina della solidarietà sì ma soprattutto della condivisione perché non tutte le famiglie hanno la possibilità economica di riempire una calza percorrendo una strada non completamente asfaltata arriviamo da Maria Rosaria e lei è la donna che si occupa di raccogliere le cornie ci accoglie nella sua casa con un sorriso ed un buon caffè non dare un sorriso ai bambini dare una dolcezza ai bambini perché come hai detto tu ci sono bambini che la caramella la possono avere tutti i giorni ma ancora nel 2023 ad oggi cioè ci sono bambini che non hanno neanche quella caramella e bambini che ancora non hanno da mangiare e l'abbiamo visti proprio noi in prima persona tra cui cosa hai mangiato oggi il latte con i biscotti allora non gli chiedi neanche oltre non vai oltre a dire come mai perché già capisci al volo ci fa quasi un po' specie che cioccolato e caramelle debbano provenire dai discount o riusciamo ad inserire una barretta di cioccolato noto in tutte le calze oppure niente nessuno qui deve sentirsi inferiore dice questa zona è stata sempre così purtroppo è stata definita in tanti modi non ci sono mai chiesti magari il perché i nostri bambini i bambini i miei bambini no perché comunque sono un po' figli di tutti devono essere trattati come tutti gli altri nulla deve apparire come straordinario la normalità è che tutti i bambini sono appunto fanciulli tutti hanno il diritto di sognare un mondo migliore tutti hanno il diritto il 6 gennaio di vivere la normalità mi auguro che qui da questa zona esca fuori un avvocato un magistrato un dottore e lì sarebbe veramente riscatto maggiore perché tutti possiamo essere tutto è tutto per questa edizione del nostro telegiornale non andate via adesso c'è lo sport un buon proseguimento rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo di Puglia e Grazie a tutti.